un buon pavimento da esterno deve essere impermeabile antiscivolo antigelivo resistente ai carichi resistente agli agenti atmosferici e agli sbalzi di temperatura a bassa propensione alle muffe e alle macchie non comprate ad occhi chiusi prima dell'acquisto chiedete sempre al vostro rivenditore di mostrarvi le caratteristiche tecniche ricordate che non tutte le piastrelle da esterno hanno le stesse caratteristiche è quindi fondamentale precisare al rivenditore l'esatta destinazione d'uso ad ognuna di esse il contesto di utilizzo e le condizioni climatiche del luogo dove verranno posate un esempio la pavimentazione di un bordo piscina avrà caratteristiche specifiche molto diverse rispetto ad altre come per esempio la pavimentazione destinata al transito pedoni o quella posata davanti ad un box che prevede quindi il passaggio di automobili